Abbiamo oggi sottoscritto un importante accordo con Amnil, un accordo che permetterà a entrambi i soggetti, regione e associazione, di lavorare per obiettivi di grande valore. Parliamo di sicurezza sul lavoro, costruita attraverso l'impegno quotidiano dell'associazione, costruita attraverso le tante iniziative che la regione fa e un percorso che coinvolga gli studenti attraverso il ruolo di testimoni che possano proprio costruire quella cultura della sicurezza che possa accompagnare poi i ragazzi per tutta la vita. La sicurezza è importante in tanti ambienti, in tanti campi della nostra vita, è una cultura fondamentale. Nel posto di lavoro può sembrare paradossale doverci andare e poi non tornare più o tornare con gravi menomazioni. Lo scopo dell'associazione è che quello che i soci hanno provato nella vita possano evitare che altri debbano fare la stessa strada. E per noi più in generale è proprio quello di dare gli strumenti affinché i numeri delle statistiche tragiche delle morti sul lavoro o degli infortuni sul lavoro continuano a decrescere sempre di più perché ognuna di quella vita ha un valore importante e ogni esperienza che l'uomo fa nella sua esistenza lo possa fare all'insegna della serenità che dal lavoro si torni magari con lo stipendio anziché con un infortunio addirittura non tornare per niente. Siamo molto contenti di questa giornata, siamo convinti che sarà un lavoro importante che aiuterà tante persone a trovare il giusto percorso di vita, il giusto e corretto rapporto con il proprio lavoro all'insegna della sicurezza.